Carissimi ragazzi, carissimi colleghi, eccoci alla settimana del codice. Settimana del codice, l'European Code Week che è iniziata il 9 di ottobre. In questa settimana e nella prossima, perché durerà un paio di settimane, parleremo e dissemineremo il pensiero computazionale. Come dice il professor Bogliolo dell'Università di Urbino, il pensiero computazionale è come la scuola, è per tutti. E quindi durante queste settimane ci divertiremo a fare coding, a sviluppare il pensiero computazionale, a creare cose nuove e a divertirci. È il terzo anno che l'ICI Vergante partecipa all'European Code Week. Non solo, quindi, il polo tecnologico robotico, ma l'intero istituto. Il periodo della Code Week di quest'anno è iniziato, come ho detto prima, il 9 di ottobre e terminerà il 24. Saranno due settimane in cui ci divertiremo a fare coding. Partiamo però ad analizzare il linguaggio delle cose. Il primo linguaggio che noi impariamo è la nostra lingua madre. E poi scopriamo che nel mondo non esiste solo il linguaggio che noi parliamo, ma ne esistono parecchi altri. Non solo parlano però le persone, parlano anche gli animali, i supereroi, i maghi. E i bambini spesso parlano le cose, parlano agli oggetti. Gli oggetti parlano e fanno cose che noi gli chiediamo di fare. Se ci pensate bene, le nostre case e le nostre auto sono pieni di oggetti che parlano. Ma allora come fanno gli oggetti a parlare? Gli oggetti sono smart, ovvero contengono un microprocessore che sa interpretare ed eseguire istruzioni. Le istruzioni chiaramente devono essere molto semplici, molto chiare, una alla volta, ma molto in fretta. Si parla di un miliardo di istruzioni ogni secondo. Il microprocessore deve però essere programmato e la programmazione è il linguaggio delle cose. Allora siamo pronti ad iniziare questa nuova avventura e buona programmazione a tutti. Inizialmente farei anche degli esempi, iniziamo un po' così. Allora l'esempio che voglio farvi, come vedete questa è una scena, chi non lo sapesse, è di un film, si chiama Apollo 13. E potremmo considerarla una scena in cui vediamo la creatività in azione. Che cosa è successo in questa navicella spaziale? Su questa navicella è sorto un problema. Per risolverlo gli astronauti dovranno creare un filtro che permetta loro di continuare a respirare. Ma il materiale che loro hanno a disposizione sono delle cartucce quadrate da inserire in un buco rotondo. Nel quale quindi abbiamo questa forma quadrata che deve entrare in una forma rotonda. Il problema da risolvere quindi è proprio questo. Utilizzare gli oggetti che ci sono all'interno della navicella spaziale per fare in modo, quindi per riuscire a inserire un oggetto quadrato in un buco rotondo. Ecco la creatività ed ecco la sequenza, il suddividere il problema in sequenze in modo tale da riuscire ad arrivare ad una soluzione. E cos'è la settimana del codice? L'European Code Week celebra la creatività, celebra la risoluzione dei problemi, la collaborazione attraverso la programmazione e le attività tecnologiche. Perché si sviluppano delle attività di coding all'interno appunto di questa settimana del codice? Beh, la programmazione aiuta a sviluppare le tue competenze, quali il pensiero computazionale. Ti offre la possibilità di muovere i primi passi come creatore digitale e se partecipiamo in tanti potremo giudicarci anche per il terzo anno il certificato di eccellenza, il Code Week for All. E questo è il nostro codice di quest'anno, il quale dovremmo metterlo dentro nella piattaforma per far notare che tutti quegli eventi che verranno organizzati e creati all'interno dell'ICI Vergante. Ma la settimana del codice, quando nasce? La settimana del codice è stata introdotta per la prima volta negli Stati Uniti nell'anno 2013. Il Code, no? Da coding. La settimana del codice, come ogni evento importante, ha una colonna sonora. La colonna sonora si chiama Ode to Code che invito i vostri insegnanti a farvela ascoltare. Poi esiste una mappa. Una mappa in piattaforma nella quale ogni scuola associazione inserisce gli eventi che ha intenzione di attuare. Come vedete, sulla vostra destra ci sono gli eventi che l'anno scorso abbiamo organizzato e creato all'interno di tutti i plessi del nostro ICI. Nel 2014 il paese che aveva il maggior numero di eventi era l'Italia. Poi esiste una piattaforma italiana, un .it, il programma al futuro.it. è molto utile perché all'interno ci sono degli esercizi molto utili per i bambini, sia quelli più piccoli che quelli più grandi. Nel 2014 ben 300.000 studenti hanno lavorato, ma meglio giocato, su questa piattaforma. Ora, l'Europa, finita la settimana del codice, rilascia un certificato di eccellenza per le scuole che partecipano con almeno il 50% degli alunni e delle alunne. Perciò, se si riesce ad avere più del 50% dei partecipanti all'interno dell'istituto, si riesce ad avere questo certificato. Nell'anno scolastico 2020, il nostro istituto ha partecipato con un numero superiore al 50% degli alunni totali e ha organizzato ben 31 eventi. Ora, questi sono i nostri risultati, i nostri due certificati. Da una parte abbiamo il certificato di eccellenza nel coding e dall'altra invece abbiamo il certificato di super organizer perché abbiamo organizzato ben 31 eventi. La settimana del codice è stata inserita il 13 luglio del 2015 nella legge 107, la legge sulla buona scuola. Questa legge introduceva il coding e il linguaggio computazionale nel sistema scolastico italiano. Il pensiero computazionale perché è importante? Perché aiuta a trovare una soluzione a un problema trasformandola in sequenze, quindi può essere applicata a qualsiasi tipo di problema. Il coding serve per migliorare la capacità di problem solving e se andiamo a pensare a un esempio possiamo prendere come esempio una ricetta. Se noi vogliamo cucinare una torta prendiamo una ricetta e seguiamo dei passaggi ben precisi. Cosicché se i passaggi sono molto chiari e semplici riusciamo a leggerla ed interpretarla in modo tale che la torta possa essere realizzata da chiunque. Jeanette Wing è colei che nel 2006 introduce la definizione di pensiero computazionale e il computational thinking. E a questo punto non mi resta che dirvi di dare vita alle vostre idee. Come sapete benissimo esistono gli hashtag, esiste hashtag code EU, european, e hashtag code IT, che sta per Italy. Dare vita alle vostre idee e date vita alla vostra creatività. E se siete stati attenti a quello che vi ho detto, a tutte le cose e le informazioni che vi ho dato, potete chiedere alle vostre maestre e ai vostri prof di cliccare il link che c'è qui sotto. Inserite nickname e buon CAUT a tutti. Durante le prossime settimane vedremo chi è stato più attento e la classe che è stata più brava. E a questo punto non mi resta che salutarvi e di augurarvi una buona settimana del codice e vi lascio con quest'augurio. Divertitevi e create qualcosa che sia veramente bello e che parli di voi. Buona settimana del codice a tutti. Buon lavoro.